È grande soddisfazione perché 75 milioni di euro in investimenti che diventano più di 40 cantieri, oggi ne abbiamo presentati 40, ma in realtà uniti ai piccoli interventi andiamo oltre 60, significa davvero rivoluzionare, cambiare il volto della città. È un attreviso che si rinnova, quella presentata nella conferenza di fine anno a Cassugana. Rinnova palazzi storici come il D'Aborso a San Francesco, o scuole come le Stefanini, ma anche interi quartieri della città come il villaggio coordinato di San Liberale. L'occasione è arrivata con i fondi del PNRR, che coprono il 50% dei 75 milioni di euro previsti di spesa, a cui si aggiungeranno altri contributi tra statali e regionali, oltre che a fondi propri del comune. La rigenerazione urbana, della caserma Salsa, delle mura, l'ex macello, il raddoppio della biblioteca Zanzotto, insomma davvero tanti cantieri che nascono dalle sensibilità dei cittadini, che si confrontano con i nostri consiglieri comunali e che poi diventano iniziative e delibere amministrative e conseguentemente cantieri. Interventi che inevitabilmente cambieranno seppur temporaneamente le abitudini di tanti trevigiani. 75 milioni di euro di opere portano con sé anche qualche disagio, ma sono convinto che i nostri cittadini, capendo la bontà degli interventi, porteranno anche un po' di pazienza. Tra gli interventi che saranno ultimati nei primi mesi del prossimo anno, anche il nuovo centro per il senza tetto all'ex macello di via Castello d'Amore. 25 posti letto, diurni oltre che notturni, con permanenza media di 3-4 anni e l'obiettivo di reinserimento sociale. Quasi una risposta al caso della chiesa dormitorio di Santa Maria del Sile. Si va oltre le dinamiche della mera ospitalità, ma vogliamo prenderci cura di queste persone per reinserirle socialmente. A breve saranno ultimati i lavori e ci consentirà di dare anche un'ulteriore risposta da un punto di vista dell'accoglienza con l'obiettivo anche di mettere la parola fine a quella situazione che sta creando un po' di tensione nel quartiere di Santa Maria del Sile, liberando la chiesa, restituendola ai fedeli e mettendo qui i migranti, quelle persone che sono in difficoltà, in luoghi che sono predisposti all'accoglienza.